. Geremias Rodriguez e Aida Jespica finalmente insieme? L'indiscrezione . Cosa sta succedendo tra Aida Jespica e Geremias Rodriguez? Secondo il gossip, i due ex Tiffany si starebbero frequentando non solo in amicizia. . I fratelli Rodriguez non smettono di sorprendere, da quando sono usciti dalla casa del grande fratello Vip, infatti, sia Cecilia che Geremias continuano a scatenare il cancelletto gossip con le loro movimentate vite sentimentali. . L'argentino, in particolare, in queste ore è tornato prepotentemente al centro delle chiacchiere prima per la rottura con Sara Battisti e poi per il riavvicinamento ad una collega del reality, . . . Geremias e Aida si frequentano? Scoppia il gossip dopo il GF Vip. . Tra Belen, Cecilia e Geremias, è sicuramente quest'ultimo il Rodriguez che negli ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé e della sua vita privata, dopo aver annunciato in varie interviste la fine della relazione con Sara Battisti, l'argentino si dice si stia riavvicinando ad una vecchia conoscenza. . . Già nel corso di una recente puntata di Mattino 5 dove il ragazzo era ospite, video, il giornalista Valerio Palmieri aveva stuzzicato l'attenzione degli appassionati di gossip dicendo che, secondo lui, l'ex protagonista del grande fratello Vip aveva certamente rivisto Aida Iespica. . 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 Nell'attesa di scoprire se tra i due sudamericani ha scoppiato l'amore oppure no, riportiamo la notizia che, qualora anche Geremia se dovesse aver trovato l'anima gemella, tutti e tre i fratelli Rodriguez sarebbero attualmente accasati. . Cecilia, infatti, vive felicemente la sua relazione con Ignazio Mosere e, stando alle ultime interviste che hanno rilasciato, a breve potrebbero decidere di fare un passo importante, si parla già di un bebè. . La chiacchierata Belen, invece, è fidanzatissima con Andrea Iannone e, si vocifera, presto andrà a vivere con lui e Santiago in Svizzera, video, dove il motociclista ha comprato una lussuosa villa immersa nel verde. .